Sono vieto di presentare come associazione di Sabine Cragnano due associazioni che hanno partecipato e hanno collaborato a questo evento, la signora Anna Ingenito e Alessia Bononato, due responsabili delle rispettive associazioni. Prego Anna. Salve, io mi chiamo Anna Ingenito, sono la responsabile dell'associazione La Colonna Azzurra MDA, un'associazione di volontariato socioassistenziale e culturale e si occupa di minori, di disabili e di anziani. Sono molto lieta ed onorata di essere qui e partecipare a questo evento. Buonasera, sono Alessia Bonopore, faccio parte del Rotaract, club di Salomare Sorrento e sono responsabile del progetto nazionale, vinciamo insieme, per la zona Golfo di Napoli del distretto Rotaract 2100. La nostra associazione è un'associazione che punta sul sociale e nel servizio della comunità. Io ringrazio quindi le altre associazioni per l'invito e attendiamo tutti gli altri partecipanti. In occasione della terza edizione del Torneo Nazionale Integrazione Sorri del 27 aprile, do il benvenuto a tutti gli atleti che vi prendono parte. È il nostro torneo, un'occasione per formarsi, una palestra di vita, non solo sport. Ringrazio la direzione Green Park di Gragnano per la disponibilità dei campi e tutti gli sponsor che hanno sostenuto e reso possibile questo evento. Sono certo che gli atleti daranno il meglio di sé. L'associazione Disabili Gragnano e la città di Gragnano sono orgogliose di ospitare le squadre partecipanti, quali Federazione Nazionale Sordi Roma, Associazione Disabili Sordi Roma, Associazione Culturale e Recreativa Sordi e Sportiva Palnesacco, Palmontone Roma, Rota Racat Club di Castellammare Sorrendo, l'Associazione Favole Seriche di San Leucio Casetta, l'Associazione Sportiva Disabili Gruppo Sportivo Centro Silenziosi Potenza, misericordia di Gragnano. Auguro a tutti un buon divertimento.